Malati in terapia intensiva sotto quota 200 in Lombardia, mentre risale il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi, anche se fra i nuovi contagiati ci sono 108 operatori sanitari e ospiti delle residenze per anziani. A Como altri 34 nuovi casi. Il bollettino di oggi sull'andamento del contagio è stato presentato dall'assessore al welfare Giulio Galliera. I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante. Siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 persone in terapia intensiva. Il numero dei ricoverati in questi reparti è infatti di 199, ha detto l'assessore. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo, con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.191 tamponi e sono stati accertati 441 nuovi positivi, con un rapporto dunque tra test e risultati positivi pari al 2,6%. Dall'inizio della pandemia sono almeno 86.825 i lombardi che hanno certamente contratto il virus, mentre gli attualmente positivi sono 25.630 con un calo di 303 rispetto a ieri. Tra i nuovi positivi registrati oggi, ha precisato Gallera, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle RSA, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio tra la popolazione rimane quindi stabile. Il totale delle persone guarite e dimesse ha superato quota 45.000 e nelle ultime 24 ore è stato di 688. Nella stessa giornata altre 56 persone hanno perso la vita e il totale delle vittime accertate dall'inizio della pandemia è di 15.840 in Lombardia. Continua anche il calo di ricoverati, 199 come detto, il totale dei malati in terapia intensiva, 8 meno di ieri e 4.026 quelli nei reparti non intensivi, 2 meno di ieri. A Como i nuovi casi accertati sono 34 per un totale di 3.747 contagi accertati dall'inizio della pandemia.